perché dite che la vita fisica è un sogno dello spirito perché la vita fisica è una proiezione della vostra mente che a sua volta è una proiezione della vostra coscienza che a sua volta è una proiezione della scintilla divina che infine è un raggio dello spirito perché dite che la vita fisica è un sogno dello spirito perché la vita fisica è una proiezione della vostra mente che a sua volta è una proiezione della vostra coscienza che a sua volta è una proiezione della scintilla divina che infine è un raggio dello spirito perché dite che la vita fisica è un sogno dello spirito perché la vita fisica è una proiezione della vostra mente che a sua volta è una proiezione della vostra coscienza che a sua volta è una proiezione della scintilla divina che infine è un raggio dello spirito